Allora, Massimo Cacciari è molto noto, quindi non avrebbe bisogno di una presentazione. Comunque è noto come politico, ex del PC, fu eletto alla Camera nel 1976 fino all'83. Poi come sindaco di Venezia dal 1993 al 2000, poi di nuovo come sindaco di Venezia dal 2005 al 2010 con la Margherita. E' noto come professore di estetica prima, quando insegnava alla Facoltà di Architettura, e di pensare filosofico e metafisica presso la Facoltà di Filosofia dell'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, di cui è stato fondatore e preside di filosofia. Ha avuto varie lauree, honoris causa, e ho il piacere di conoscerlo da molti anni, almeno dal suo libro Adelphi, dell'inizio, che era del 1990 e poi del 2001, una riedizione. E poi cito Geofilosofia dell'Europa, dal 1994, L'Arcipelago, Della Cosa Ultima, Maschere della Toleranza, Rizzoli, Amletica, con Piero Coda, un teologo, e con Enzo Bianchi, ha curato i comandamenti per il mulino. Poi, il potere che frena, sempre per Adelphi, labirinto filosofico, con Paolo Prodi, Occidente senza utopie, e con Bruno Forte, per Morcelliana, Dio nei doppi pensieri, attualità di Mancini. Poi, generare Dio, la mente inquieta, e, da ultimo, questi che vi ho detto, che ho ricordato recentemente. Con lui, doveva parlare questa sera, Naterino Irti, che è coautore, però, ha dato forfè. Il lavoro dello spirito è su Max Weber, di cui, aveva già curato, e introdotto, la politica come professione, e la scienza come professione. Cioè, questo ultimo lavoro, non è un lavoro, così, occasionale, ma è già, qualcosa, di sedimentato. Questa sera, lo sentiamo, con piacere, deve, usare, il microfono, che ha, lì in basso, e ricordo, che per le domande, c'è questo microfono, qui, a destra. Bene. Sì, dovevamo, affrontare l'argomento, con Irti, che, un grande giurista, e quindi, sentire anche da lui, il suo punto di vista, il punto di vista, di un giurista, in senso stretto, su questo tema, del rapporto, tra diritto e giustizia, sul significato, di questi due termini, sulla loro relazione, sul loro rapporto, spesso drammatico, nella nostra cultura, nella nostra civiltà. io, non voglio, riassumere il libro, chi di voi vorrà, si potrà, lo potrà vedere, è un libro, che è, di un certo impegno, anche, come dire, storico, filologico, ma, a me interessa, stasera brevemente, vedere, se ci intendiamo, sul problema, sul problema, cioè del rapporto, tra diritto e giustizia, sono sinonimi, questi due termini, cioè, diritto, che cos'è? Diritto, l'insieme di leggi, positive, no? Cioè, questo diritto, di questo paese, in questa situazione storica, ed è tutto qui, la giustizia, per cui, essere giusti, significa, obbedire, alle leggi, che il diritto, stabilisce, dobbiamo, risolverla così, la questione, non possiamo dire altro, se non creando, fraintendimenti, equivoci, parole, come dire, che non significano, l'unico significato, positivo, del termine giustizia, significa, questo diritto, che stabilisce, queste leggi, è un bel problema, no? A mio avviso, e qui, il saggio mio, con quello di Irti, non è in sintonia completa, a mio avviso, è impossibile, non cercare, di dire la giustizia, perché, eh, cerchiamo di vederlo, legge, diciamo, in greco, si dice, nomos, no? Lo diciamo anche noi, in tanti nostri, termini, risulta questo, la radice di nomos, nomos, ma nomos, in greco, nomos, la legge, che noi traduciamo legge, ma nel nostro termine, le legge, non c'è tutta la ricchezza, di significati, che c'è nel greco nomos, in nomos, risuona, quale problema? Beh, è un problema fondamentale, che la legge, nomos, rimanda, necessariamente, ha un gesto, che conquista il potere, nomos, ha la stessa radice, nemen, che vuol dire, prendere, per stabilire una legge, occorre aver preso potere, gewalt, in tedesco, ha un duplice significato, può essere tradotto, violenza, e anche potere, noi distinguiamo sempre, se dico violenza, non indico il potere, nel nostro linguaggio, in tedesco si dice gewalt, e molte volte gewalt, è uguale a macht, potere, per affermare una legge, alla quale noi siamo tenuti ad obbedire, occorre, che si sia stabilito un potere, e un potere cosa significa? Un potere significa distribuire le parti, le parti in commedia o in tragedia, questo fa il potere, ci distribuisce le parti, tu fai questo, tu fai quell'altro, a ciascuno il suo, gli viene attribuita una parte, questo fa il potere, quindi in ogni nomos è implicito, uno, un significato di presa del potere, due, un significato di distribuzione delle parti, quindi uno, un significato in cui una violenza impone il proprio diritto, pone un diritto, un altro, una violenza legittima, in base al diritto che si è imposto, e in base a questa violenza, noi siamo tenuti ad obbedire. Ma che cosa giustifica questo diritto? La vittoria? E basta? Cioè che cosa giustifica questo diritto, che pone, che ci pone, che ci impone l'obbedienza. Nel termine nomos, o gewalt, questo non è assolutamente chiaro, chiarito. Assolutamente. Nel nomos significa che qualcuno ha imposto questa legge, a cui noi siamo tenuti ad obbedire. Perché? Perché se non obbediamo c'è una violenza legittima, che ci punisce. Legittima in base a che cosa? Legittima in base al fatto che quella potenza che ha stabilito quel diritto ha vinto, se è imposta. Ma non c'è nessuna giustificazione in questo, se non la vittoria. Ma proviamo a chiederci, è mai possibile un potere potestas che non cerchi la propria giustificazione? Cioè che non cerchi di mostrare che è giusto? Avete mai incontrato un'apotestas che non voglia affermarsi come auctoritas? che non voglia essere autorevole, legittima, e in base a che cosa? In base al fatto che si ritiene giusta. Ma non è implicito nel concetto di legge quello di giustizia. Ma nessuna legge, nomos, se mai presentata nella nostra storia, senza questa istanza di giustificarsi. Mai. senza questa istanza che qualcosa in lei trascende la propria vittoria. Io non ho semplicemente vinto, ma ho vinto perché sono giusta. Quindi è impossibile, logicamente impossibile, che non si presenti nella storia un'apotestas che non si giustifichi, cioè che non cerchi di essere legittima sulla base di una propria auctoritas. E questo nel greco, nella cultura greca, è di una chiarezza lampante. Lampante. Ed è la quintessenza, secondo me, della tragedia greca, della forma della tragedia greca. In cui hai diche, che noi traduciamo di solito giustizia, che è figlia di Zeus, sì, figlia di Zeus. Zeus che cos'è? Zeus è una violenza, gevalte, che si è imposta. Non è originario Zeus, non è il Dio nostro, no? Il Dio dei monoteismi. È nato, sull'Ida, cerca di non morire, in tutti i modi, lotta per durare, come qualsiasi potere, e ha come figlia di Dike. Ma la madre di Dike è Temis, che non è soggetta a Zeus in nessun modo. La vera giustizia è quella, qui Jäger non ha capito bene. non è Dike, la quintessenza dell'idea greca di giustizia è Temis, che è uguale a Gaia, terra, come dice Eschilo nel Prometeo. e Zeus per durare deve sposarsi a Temis e produce, genera Dike. Dike è con Zeus, ma è, diciamo così, appunto, veramente un concetto molto vicino a quella della legge. Ma Zeus non potrebbe durare sulla base soltanto del suo rapporto con Dike, ma del fatto che egli riconosce il primato di Temis. Temis è ciò che è posto, Titemi, Dike è ciò che indica, Dike indica Temis, Dike, dicere, indicare, indica Temis. Ciò che trascende semplicemente all'affermazione che Zeus ha vinto. Zeus ha vinto, ha vinto contro la generazione precedente degli dèi, ma per durare e deve fare i conti con Temis. E questo è il grande tema del Prometeo incatenato. Deve fare i conti con Temis e Prometeo che invoca nel Prometeo, appunto, invoca terra, Gaia, Temis. La chiama Temis e dice che è Gaia. La dea originaria per eccellenza, la prima dea. Ma questo non è soltanto mitologia, questo è logica. Perché, appunto, e ripeto quello che ho detto all'inizio, non esiste un potere che possa valere soltanto come Gewalt e basta. La Gewalt deve giustificarsi, la Gewalt deve avere un rapporto, perché sennò la sua potestas non è durevole, non è ben fondata, come dice di nuovo Escolo nel Prometeo. Zeus governa senza fondamento e la radice di fondamento, Temis, è Titemi, Porre. Ogni potere deve reggersi sulla base di qualcosa che lo fonda e questo qualcosa che lo fonda, Temis, Titemi, Posto, non può equivalere, identificarsi al nomos, alla legge, perché il nomos indica soltanto la presa del potere e la distribuzione delle parti e la violenza legittima in base alle quali noi siamo tenuti a stare al gioco, a non disobbedire al gioco. A ognuno è dato il suo. ecco allora il legame logico che lega il tema del diritto nella sua positività al tema della giustizia. È un legame logico e filosofico politico, meta giuridico. I giuristi possono anche stare al diritto positivo, ma non possono starci più di tanto perché quel diritto positivo è positivo nel momento stesso in cui è posto e se è posto indica il problema della giustizia come qualcosa che trascende la pura positività del diritto. Non è un trascendimento generico, astratto, è nella logica delle cose, nella logica direi al limite pratico-politica delle cose, ma a questo punto si spalancano degli abissi. Perché nel momento stesso in cui devo trascendere la sfera, la dimensione del diritto positivo, la trascendo in che direzione? In quale prospettiva? Di che parlo? Di che parlo? Questo è il problema. Per cui tanti giuristi a partire dal grandissimo Kelsen dicono non si parla di giustizia. Giuristi non parlate di giustizia, proibito. Questo può creare soltanto fraintendimenti e equivoci. Non si parla di giustizia. Ma non è possibile non parlare di giustizia a Kelsen su base logiche, storico-logiche. Ma a questo punto si spalancano abissi. Cosa significa parlare di giustizia? Allora potremmo dire cose opposte a questo proposito. Potremmo dire e qui di nuovo la grande tragedia greca ci insegna meglio di qualsiasi altra forma letteraria o filosofica che l'Occidente abbia conosciuto. Potremmo dire la legge nomos deve sempre indicare di che che cosa? è quello che è il diritto non scritto. Come potremmo dirlo in termini molto in modo tale da capirci subito? Le consuetudini, i costumi, i romani direbbero qui del legge cinemoribus. Cosa possono contare le leggi se le leggi non indicano indicare i costumi, le abitudini, le consuetudini? Se le leggi non tengono conto di questo cosa possono contare? Cosa possono valere? Arriva un potere e stabilisce la sua legge. ma questa legge non tiene conto assolutamente della storia che è comune a un popolo e cosa può contare in quella legge? Abbiamo avuto esempi clamorosi a questo proposito, no? Sembra che il mio discorso sia strato ma è concretissimo. Abbiamo avuto esempi clamorosi a questo proposito. Arrivano le rivoluzioni no, la rivoluzione bolshevica eccetera, eccetera, cambia tutto. Crolla e tutto torna peggio di prima. o meglio di prima o come prima. Quid legge assassine moribus? Se arrivano delle persone in Russia che dicono a questo punto dovete essere tutti atei, quid legge assassine moribus? Quindi possiamo dire la legge nomos deve sempre indicare la consuetudine l'ethos non può mai contraddire l'ethos di un popolo un grande giurista italiano sacco meno noto di altri ma straordinaria analisi anche dal punto di vista antropologico sociologico chiama tutto ciò il diritto muto cosa può contare il diritto la legge positiva scritta se non tiene conto del diritto muto che abita ognuno di noi che abbiamo succhiato con il latte della mamma cosa può contare il diritto muto il diritto non verbalizzato il diritto non scritto di nuovo la tragedia credi creonte che il tuo potere possa durare se non tieni conto del diritto del sangue se non tieni conto del diritto della casa dell'oicos della famiglia cosa credi che possa durare il tuo potere se non tieni conto del diritto muto del diritto dell'ade di antigone ade aidein il diritto dello zeus che non si vede muto muto ma muto ma muto non muto ma potentissimo prepotente prepotente una potenza che precede quella del tuo del tuo diritto scritto verbalizzato e quindi si potrebbe dire che appunto il potere deve giustificarsi sulla base di questo diritto muto si potrebbe dire ma il diritto muto è un abisso dove va a finire il diritto muto qual è sta dentro il sangue di un paese di un popolo potremmo dire così che la legge è giusta nella misura in cui riconosce la prepotenza di questo diritto non verbalizzato di questa legge non scritta e di nuovo sono i greci veramente che hanno già capito tutto a questo proposito ma potremmo dire l'opposto sempre stando ai greci potremmo dire no no qua siamo nella mitologia ma non vedi che la mitologia sono diritti contro diritti diche contro diche qual è la diche vera la dica di Oreste che uccide sua madre o la dica delle rinni che punisce Oreste perché ha ucciso qual è il diritto diche contro diche qual è il diritto e allora e allora la giustizia non può derivare dall'ethos non può essere fatta derivare dall'esperienza che un popolo una città ha la giustizia può essere soltanto il prodotto di che cosa ma di una ragione della ragione ex-razione e qual è il mega esempio di una giustizia che viene semplicemente dalla ragione ma la Politeia di Platone la Repubblica di Platone il grande testo di Platone che è in lotta radicale contro l'ethos della sua città leggete la Repubblica di Platone in questa chiave è un testo rivoluzionario anche qui Heger sbaglia radicalmente a mettere Platone come conclusione di una paideia greca ma Platone è la rivoluzione della paideia greca sbaracca la paideia greca non c'è una virgola della Politeia Platonica che abbia a che fare con la paideia che cosa dice Platone se vogliamo una città giusta che abbia leggi informate alla giustizia tutto questo deve essere il prodotto della ragione in che senso di calcoli di equilibrio ognuno di noi è come un membro di una grande equazione ed ecco che i filosofi risolvono l'equazione un'idea di giustizia come ha capito benissimo Simone Weil totalmente matematica matematica pitagorico matematica la città e le leggi della città sono giuste quando tutto è organizzato more geometrico cosa c'è a che fare questo con l'ethos nulla nulla di nulla è la rivoluzione radicale dell'ethos e potremmo dire anche così quindi che perché le leggi siano giuste devono affondare nell'ethos o che perché le leggi siano giuste non devono avere nulla a che fare con l'ethos ma devono nascere tutte dalla ragione abissi oppure oppure bisogna essere aristotelici e forse bisogna essere aristotelici e dire no certo l'ethos se noi affondiamo nell'ethos l'idea di giustizia e allora lì siamo diche contro diche perché il mito ci dice di tutto ma non possiamo neanche essere platonici perché il discorso platonico è totalmente irrealistico non potremmo mai avere una callipolis che è organizzata a more matematico in cui tutti i caratteri tutte le funzioni tutti gli umori sono perfettamente equilibrati in cui c'è proprio un'equazione che come tutte le equazioni deve essere deve ridursi ad una uguaglianza ad una perfetta uguaglianza quindi che cosa e quindi è una tecnica quale bisogna avere però un'idea di giustizia un'idea di giustizia un'idea regolativa perché Aristotele nel suo grande realismo dice appunto che quello che ho detto fino adesso la legge nomos di per sé non è giusta di per sé ma deve cercare la giustizia ma di per sé non è giusta capita la legge di essere giusta può capitare è un felice caso ma non è assolutamente necessario che la legge sia giusta può essere giusta come? affondando nell'ethos no per le ragioni che ho detto diventando il prodotto della ragione no per le ragioni che ho detto come può capitare di essere giusta se c'è un'idea regolativa di giustizia che sia in qualche modo praticabile realizzabile bene a questo punto tiriamola fuori a seconda dell'epoca a seconda delle circostanze ma dobbiamo tirarla fuori e tu legge e tu potere che stabilisci le leggi sei tenuto a mostrarmi perché la tua legge sia giusta cioè adeguata all'idea di giustizia che tu sei tenuto a indicarmi se no la tua potestas non avrà mai auctoritas e non avendo mai auctoritas non potrà mai durare non potrà mai essere ben fondata e qual è l'idea di giustizia che dice Aristotele Aristotele certamente dice è giusto chi obbedisce alle leggi certo ma non dice mica soltanto questo dice poi anche cos'è la giustizia dice la legge può essere giusta ma può non esserlo ed è giusta quando quando obbedisce segue cerca di seguire una certa idea di giustizia che per Aristotele qual è? fare il bene dell'altro pros eteron questo fare il bene dell'altro da qui tutto l'aristotelismo etico mescolato variamente anche con elementi propri della tradizione cristiana eccetera eccetera di tutto il Medioevo Dante compreso fare il bene dell'altro la legge può fare il bene dell'altro può ma non è detto che lo paccia assolutamente in quel caso la legge non sarà giusta vabbè e cosa succederà non si sa cosa succederà lo si sa benissimo perché la nostra storia lo dice in tutte le salse succederà che ci sarà una critica della legge in base ad un'idea di giustizia ed è sempre stato così tu legge non sei riuscita a giustificarti sulla base appunto di un'idea di giustizia giustificarti e ci sarà chi ti critica perché perché vuole una legge che si fondi su un'idea di giustizia sistole diastole della nostra civiltà se la legge è semplicemente potestas non sta in piedi non è in forma e Aristotele dice legge perché tu sia in forma persegui il bene dell'altro cioè combatti diciamolo in termini polemici che è più chiaro il concetto combatti perché non si affermi la pleonexia dice Aristotele cioè la tendenza che è propria di ognuno di noi a volere di più a volere di più per sé e non a volere il bene dell'altro perché questo distrugge la polis distrugge la civitas distrugge la comunità distrugge la politica non ci può essere una politica laddove questa politica non si opponga alla pleonexia e non persegui la giustizia come volere il bene dell'altro questa è l'idea di Aristotele possiamo oppornele degli altri opponiamole delle altre ma quello che risulta chiaro dal ragionamento è che non può esistere un nomos che non voglia e che non si giustifichi e che quindi assurda la istanza chelseniana di dire di questo non ne parliamo perché non se ne può parlare in termini determinati no di ciò che non si può parlare in modo determinato che poi significa nel modo in cui parla di natura la scienza fisica perché questo significa bisogna tacere no Wittgenstein no bisogna cercare di dire perché perché continuamente cerchiamo di dire e quindi se tu dici che bisogna tacere sei nel irrealismo più totale perché la storia il mondo le nostre prassi cercano costantemente di dire questo e quindi la tua posizione filosofica è la più astratta del mondo pur apparendo concretissima bisogna parlare soltanto di ciò che si può dire in modo determinato cioè nel modo delle scienze fisiche sembra concretissimo no è astrattissimo perché la nostra vita che è qualcosa di concreto è un continuo cercare di dire ciò che non riusciamo a dire in modo definito e determinato e quindi dobbiamo cercare di dirlo nel modo meno approssimativo possibile quello che sto cercando mi sto sforzando di fare concretamente cioè la legge il diritto positivo eccetera hanno immanenti a sé hanno tengono immanente a sé una logica che li trascende immanente a sé non non possono iuxta proprio principia non possono stare dentro il diritto positivo il diritto positivo non può stare dentro il diritto positivo come nessun potere costituito può limitarsi a presentarsi come potestas potrei continuare in modo ancora più concreto a indicare l'esigenza di questa istanza ma ci intendiamo immediatamente che cos'è soprattutto dopo la seconda grande guerra il grande problema del diritto costituzionale se non questo che cos'è la costituzione se non esattamente questo la costituzione è presentare in termini di norma fondamentale che cosa leggi determinate un'idea di giustizia che cos'è se non questo questa è la costituzione presentare un'idea di giustizia e dire e dire alla legge guarda che tu legge positiva devi indicarmi sempre diche indicarmi sempre questa idea non puoi sottrarti dall'obbligo di avere sempre un riferimento a questa idea ma ancora di più che cos'è il giudice nella sua attività il giudice nella sua attività concreta cos'è uno che applica la legge ma in quale leggenda chi ve l'ha raccontato il giudice non applica le leggi lui si interpreta costantemente le leggi è una fonte di diritto dal giudice non è un'applicazione della legge una macchinetta che applica le leggi e in modo in che modo il giudice interpreta le leggi secondo voi io giudice com'è che interpreto le leggi se non in base a una mia idea di giustizia com'è che l'interpreto in base a che cosa un'idea di giustizia che può affondare nell'abisso dell'ethos della consuetudine come nell'abisso che la giustizia deve essere more matematico dimostrata quindi quindi in modo completamente contraddittorio ma ugualmente io giudice posso interpretare soltanto così sulla base di una mia idea di giustizia e allora questa interpretazione del giudice sarà tanto più arbitraria quanto più non vi sarà nella nel diritto positivo una norma fondamentale parte del diritto positivo che dà un'idea di questa idea di giustizia che può essere comune a tutti la costituzione se manca questa costituzione in termini materiali ma anche in termini culturali immateriali se manca questa idea alla quale una comunità si orienta verso la quale con la quale una comunità si orienta il giudice continuerà a fare il giudice cioè l'interprete della legge ma in modo sempre più arbitrario questi sono i dilemmi appunto del nostro tema del rapporto tra diritto e giustizia dilemmi forse ineliminabili ma nei confronti dei quali dobbiamo continuare a dire a cercare di dire nei termini più determinati più concreti storicamente politicamente e concludo che cosa accade se invece cessiamo di dirli fine Kelsen ti accetto guarda sono stramato non ne riusciamo no certo non riusciamo a giungere ad una soluzione analitica del problema quindi cessiamo c'è la legge c'è il diritto positivo sì sì ho capito il diritto positivo è un diritto che nasce da una violenza gevalte che si impone bene benissimo tutto quello che vuoi ma questo è fine cessiamo di discutere di diche di temis cessiamo di di vedere di guardare i nostri classici cessiamo cessiamo di leggere l'antigone cessiamo di leggere l'ifigenia cessiamo di leggere i ghete l'ifigenia in tauride di ghete cessiamo di leggere i classici per carità c'è questo diritto positivo sfanghiamocela al più cerchiamo di vedere che le leggi siano leggibili che abbiano la loro consistenza logica che stiano insieme che si connettano già cose molto importanti ma non interroghiamoci più sul rapporto con la giustizia qual è la conseguenza molto concreta di questo ragionamento è quello che ho cercato di indicare nel secondo mio saggio libretto che è uscito recentemente che è connesso in qualche modo a quello sul suddiche sulla giustizia che Carlo ha citato la conseguenza di questo smettere di soffrire cercando di dire qualcosa che non riusciamo a dire in modo determinato come lo scienziato della natura riesce a dire in modo determinato la sua legge è questa è questa che giuristi e tutti noi dobbiamo stare a che cosa allo stato di fatto alla legge che c'è al nomos che c'è e che c'è ormai sul piano globale perché non c'è più i nomoi locali delle singole città contano niente c'è un nomo sterraqueo globale e quello possiamo analizzare possiamo determinare in modo scientifico e a quello stare ed è il saggio di Irti un saggio molto colto e disperato come tutti i suoi che dice no possiamo stare soltanto al nomos che c'è dato che si è ormai imposto in termini globali che è la legge appunto dettata dalle grandi potenze economico finanziarie che dominano i nostri destini e che hanno integrato a sé perfettamente anche tutto il sapere scientifico perché il sapere scientifico è ormai determinato nel suo sviluppo dalla potenza economico finanziaria questo è il mondo e quindi cerchiamo di mettere tutto l'ordine possibile all'interno di questo mondo rinunciamo il grande tema della rinuncia no che risuona poi tra l'altro fin dalla crisi delle filosofie idealistiche e romantiche rinunciamo entzagung no Goethe rinunciamo a cambiarlo questo mondo questo mondo non è cambiabile la gewalt la potenza violenza di questo mondo non è cambiabile o almeno noi non possiamo assolutamente sapere come cambiarla una situazione tragica come quella tutto sommato anche del prometeo classico no sì io so che Zeus essendo nato creperà pure perché tutto ciò che è nato deve anche finire però quando chi come perché non è chi lo sa al momento dobbiamo tenercelo lui e tutta la sua corte di olimpi dobbiamo tenercelo l'unico modo che è l'unica cosa utile che possiamo fare è capire quali sono le relazioni tra gli dèi come si possono comporre gli dèi come Ares si può mettere d'accordo con Afrodite come 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 era si può accordare con suo marito e mettiamoci d'accordo mettiamoli d'accordo queste idee questo questa è la posizione sostanzialmente che emerge dal saggio di Natalino Irti con la quale abbiamo tante volte dialogato e polimizzato perché io ritengo che questa posizione non sia consistente logicamente non sia sostenibile e di nuovo mi rifarei se volete mitologicamente appunto all'esempio di Zeus e no Zeus sa che deve mettersi d'accordo con Temis per durare malgrado sia magari cosciente che il suo regno finirà come finito quello di Urano come finito quello di Crono ma sa che quelli di Urano e di Crono sono finiti come sono finiti perché non avevano stretto il rapporto con Temis perché erano titani perché la loro Gewalt era solo violenza via infondata il loro Kratos era tutt'uno con via no via è la stessa radice di vis latino violenza vis è la stessa parola e quindi non è possibile non è possibile però certo oggi le cose potrebbero essere completamente mutate oggi potremmo essere di fronte ad una ad un mito al mito di una potenza di un Gewalt di una Gewalt che in tedesco vuol dire la somma potenza ciò che vale per eccellenza ciò che vale per eccellenza che non ha più bisogno per sostenersi per durare per potere che non ha più bisogno del rapporto con Dike questo potrebbe essere sì questa è l'idea sotterranea del saggio di Natalino Irti se lo leggerete no vada massimo sbagli perché appunto oggi la forma del kratos del potere Gewalt Marx insieme potenza potestas autorita non hanno più bisogno di questo rimando oggi siamo nel mondo della immanenza assoluta della immanenza assoluta nulla più si trascende rispetto all'orizzonte all'orizzonte orizzontale dei nostri rapporti sociali dei nostri rapporti sociali dei nostri rapporti culturali dei nostri rapporti economici nulla più si trascende non c'è più questa necessità da parte della potestas per essere autorevole di indicare una dimensione che in qualche modo la trascenda questi sono i problemi irrisolvibili forse irrisolvibili ma il fatto che non siano risolvibili o che non riusciamo a risolverli in un senso determinato e definito non può escludere che non ci interroghino continuamente ci stanno interrogando continuamente e forse mai così in modo così impellente così tragicamente impellente di oggi erano problemi che si ricorrevano alla nostra civiltà forse quasi inavvertiti ormai ci sembrava continuo questo ecco ecco una una forza che si impone stabilisce il suo diritto e poi una forza che vuole far durare questo diritto questo potere e cerca cerca questa forza costantemente di giustificarsi eravamo abituati a questo eravamo abituati a delle potenze che si affermavano ma che cercavano di giustificarsi adesso siamo di fronte di una potenza che si afferma ma che non sembra non avere più alcun bisogno di giustificazione sembra essere diventata qualcosa di naturale una legge naturale ma è proprio così? dobbiamo chiedercelo dobbiamo chiedercelo e il pensiero credo politico e anche filosofico e anche giuridico che sono sempre stati connessi nella nostra tradizione è a questo confine è a questa soglia credo che quello che sia interessante e importante sia definirla con la massima precisione sia proprio questo definire con la massima precisione questa soglia non siamo assolutamente in grado forse di oltrepassarla di vedere quello che ci attende quello che si sta oltre ma forse riusciamo a definire bene questa soglia nuova nuova rispetto a tutto il nostro passato perché il nostro passato è determinato da questa esigenza autoritas potestas nomos le giustizia da questo osmosi oggi forse questo è venuto meno e siamo appunto nell'epoca della totale immanenza ma ne siamo certi ecco interroghiamocene in effetti quando ha citato il saggio elogio del diritto mentre Cacciari ha scritto destino di diche quello di irti si intitola destino di nomos e mentre aspettiamo le domande io vorrei che Cacciari ci precisasse meglio di quanto ha fatto cioè con maggiore forza il valore della Costituzione della Costituzione italiana quando dice il giudice interpreta e al tempo stesso sembrerebbe una diciamo soggettivisticamente una visione soggettiva ha dei limiti il giudice cioè la legge la giustizia sono dei riferimenti per il giudice nell'interpretazione appunto ovvio no? c'è un testo i giudici si tenono l'utilizzo interpretare un testo che è il testo della legge e come lo interpreta però in base a quali idee regolative esattamente come tu interpreti un testo di un critico interpreta un testo della letteratura sulla base della sua scuola c'è chi è strutturalista chi è crociano chi è lucacciano che è evidente in questo caso specifico il giudice dovrebbe essere illuminato nella sua interpretazione dal riferimento alla legge che interpreta dal senso generale che all'insieme delle leggi di questa comunità da una costituzione che non è necessariamente una costituzione scritta ma di nuovo come nel diritto anglosassone affonda soprattutto nel consuetudinario con problemi diversi nell'un caso o nell'altro ma siamo sempre lì ora dove dove tu in una situazione diciamo così esercizio per cui i riferimenti alla nostra realtà sono anche troppo evidenti per essere esplicitati sei in una situazione nella quale la costituzione che hai che dovrebbe ordinare il senso cioè la costituzione cosa dovrebbe essere il senso che avranno le leggi a venire il senso in quale senso ha la legge dovrebbe avere questo senso in una situazione in cui questo senso della legge cioè l'interpretazione della norma fondamentale diventa sempre più confusa contraddittoria in cui le leggi ne tengono conto sempre più arbitrariamente è evidente che l'interpretazione che il giudice dà della legge tenderà a diventare sempre più arbitraria ed è esattamente quello che è successo nel nostro paese la costituzione del nostro paese aveva grandi pregi il primo quello di essere chiarissima dal punto di vista della sua funzione intellettuale e culturale era esattamente questo badate amici dopo un secolo di suicidio europeo ed i catastrofi mondiali è necessario che le leggi positive si giustifichino cioè si orientino tutte sulla base di una certa idea economica politica e di civiltà questo è il senso che è stato dato a tutte le costituzioni del secondo dopo guerra questo però il difetto di questa costituzione è che forse ha esaltato questa dimensione fino a diventare che cosa un dover essere non un essere un dover essere cioè le ambizioni di orientamento generale di indirizzo generale di senso generale che la nostra costituzione manifestava erano tali da far assumere a tutto questo l'aspetto di non dover essere difficilmente incarnabili in un essere e noi abbiamo scontato nel corso di tutto il secondo dopoguerra questa contraddizione tra una diciamo una nobilissima costituzione che era estremamente difficile far vivere nelle leggi perché le leggi nascono dal compromesso tra forze politiche nascono da interessi contrastanti eccetera eccetera questa è la contraddizione che e questa contraddizione è stata tra virgolette risolta in che senso nel senso peggiore con leggi sempre più illegibili e con modifiche della costituzione che ne hanno leso in parte non solo la struttura ma addirittura la qualità letteraria l'estetica ma questo è un discorso specifico che riguarda appunto la storia italiana che però va inquadrato io ritengo per essere ben compreso nel discorso generale che ho cercato di fare bene buonasera professore e grazie lei per l'ennesima volta ci ha riportato alla classificazione umana degli ultimi millenni tra civitas e polis e più di una volta ci ha ricordato come sia l'una che l'altra avessero alla loro genesi la differenza antitetica dove nella civitas se ho capito bene i civitates erano prescindevano dalla civitas e nella polis c'era un discorso totalmente opposto dove i cittadini polites avessero un ruolo diverso e non subalterno siccome poi adesso ho parlato anche della costituzione italiana che è dopo la seconda guerra se dovessimo affermare che questa costituzione era europea prima dell'Europa a tal punto che i paesi anglosassoni che lei ha citato molto meglio di noi hanno applicato la nostra costituzione ideale ai cittadini tant'è vero che noi come gli arabi diciamo volgarmente quando sendiamo le ingiustizie sia fatta la volontà di Dio anche quando vai davanti a un giudice gli islamici dicono inshallah perché manco ce l'hanno i tribunali allora le chiedo in queste quattro serate più di una volta è riaffiorata la nostra cultura cattolica e quindi di un potere temporale millenario le chiedo ma questa costituzione che in Europa si è applicata idealmente esteticamente anche a livello filologico e in Italia è stata stravolta ma l'Italia ha avuto i romani che hanno inventato il diritto è una questione che si può dire che è avulsa che la religione incide nei millenni fino a tal punto che quell'ethos che lei diceva giustamente attenzione se noi partiamo dall'ethos stravolgiamo il senso della legge e quindi della giustizia grazie non ho detto assolutamente che anzi ho detto che poi ho indicato due polarità intanto per intenderci insomma ci sono due poli quando si dice appunto che la legge deve giustificarsi non abbiamo il tempo di fare tutta una fenomenologia ma i due poli sono quelli che ho indicato uno può dire tu leggi devi giustificarti perché deve tener conto della consuetudine dei costumi dell'ethos ethos vuol dire questo letteralmente non un discorso moralistico vago ethos vuol dire ethos è la stessa radice di sedes dove stiamo la storia le nostre radici chiamale come vuoi dove stiamo ognuno di noi è una storia che vive nel nostro linguaggio io parlo italiano quell'altro parla inglese i linguaggi pensano per conto loro anche se noi non ce ne accorgiamo questo vuol dire ethos e uno può dire la legge deve tenere conto dell'ethos cosa dicevamo cosa dicevano molti all'epoca qualcuno di voi se lo ricorderà di divorzio aborto guardate queste leggi non tengono conto dell'ethos sono ingiuste perché non tengono conto dell'ethos di questo paese che ha anche queste dimensioni religiose eccetera eccetera è un dibattito culturale anche molto fondato molto importante no perché sollevava questa questione oppure esattamente all'opposto ma cosa scherziamo io giustifico la mia legge sulla base di consuetudini costumi tutto irrazionale no la legge deve giustificarsi perché pone tra di noi tra i nostri diversi interessi un equilibrio perfetto come quello che c'è in un'equazione ognuno di noi c'è il suo valore assegno un valore ad ogni funzione ad ogni interesse ad ogni ceto ad ogni mestiere ad ogni professione gli assegno quel valore e poi ci costruisco un sistema una lingua perfetta sono i due opposti sono i due criteri opposti storicamente cosa avviene che quando io voglio sistemare razionalmente e trascuro totalmente l'ethos a un certo momento appunto l'infondatezza del mio potere risulterà evidente e una volta che crolla tutto tenderà a tornare come prima ma altrettanto se io mi limito soltanto a dire no questo è il costume questa è la la consuetudine eccetera eccetera e non potrò che cosa non potrò seguire l'evoluzione delle cose come dice Machiavelli il sistema migliore per distruggere una città e non modificarne la costituzione perché la costituzione di una città come di qualsiasi organismo deve seguire il mutamento delle cose deve avere una propria dinamica e questo era il valore anche della nostra costituzione che indicava una dinamica che indicava un movimento che indicava un dover essere certo che c'era dentro anche l'Europa certo tra i padri fondatori della nostra costituzione ci sono dei convintissimi europeisti ripeto non è necessario che la costituzione sia scritta perché tutto questo discorso può essere anche vissuto può essere anche l'humus comune di una civitas certo noi siamo romani non c'è dubbio che siamo romani da questo punto di vista non siamo greci cioè per noi la civitas è il risultato dell'operazione del lavoro dello scontro del conflitto anche tra i cives civis civitas come ha spiegato benveniste e tanti altri la civitas è il risultato della prassi dei cives mentre nella lingua greca tu hai il primato della polis della forma cioè la polis e il polites è il è il termine che deriva da polis a differenza proprio capovolgendo civis civitas no è importante questo ma tutto sommato è anche una differenza che va composta nel senso che esistono le diastole cioè da un lato certo tu devi riconoscere che la prassi dei cives nella loro autonomia anche nelle loro lotte patrizi plebei che crea la civitas ma nello stesso tempo devi anche essere consapevole che alla civitas alla forma della civitas poi devi attribuire un valore deve essere una forma e quella forma non può essere la somma delle parti e non può essere la somma delle parti una somma meccanica delle parti deve assumere poi un primato rispetto alle parti quindi non è tanto in contraddizione come dice benveniste il discorso polis polites civis civitas è importante vedere questa differenza e vedete di nuovo come le lingue pensino però nello stesso tempo nella nostra civiltà devi comporre queste due cose perché la civitas può essere il risultato dei cives ma poi deve assumere un proprio valore intrinseco deve essere una forma e non può essere alla merce poi dell'arbitrarietà dei movimenti dei cives quindi si possono comporre le cose e questo è un discorso che vale per noi come vale per l'Europa perché se noi ci diciamo cittadini europei e lo siamo diventati formalmente giuridicamente ma di nuovo il problema che dicevo prima giuridicamente siamo cittadini europei ma siamo riusciti a giustificare questo essere cittadini europei ma no perché se non diamo un senso a questa Europa quale giustizia persegui questa Europa e questa Europa diventa semplicemente un fatto di mercato amministrativo ed è il discorso finale che ho fatto è uno spazio di mercato è uno spazio monetario di mercato come lo è diventato il mondo e che senso ha tutto ciò qual è il senso non importa non discutiamone vediamo come le varie parti si combinino tra di loro se ci sono degli errori di logica di grammatica di sintassi nel collegamento delle parti tra di loro delle leggi tra di loro può essere soltanto questo il nostro interrogativo certo giuristi analitici scientifici come Natalino ti sanno spiegare perché questa legge non si combina affatto con quell'altra nascono contraddizioni che rendono amministrativamente impossibile amministrare la cosa certo che è importantissimo anche questo livello di analisi ma può bastare forza c'è un microfono purtroppo deve venire qua una passeggiata infinita lo so però purtroppo si sarà stancato professore ringraziando volevo fare una domanda che un po' si distacca dall'argomento di questa sera tra diritto e giustizia ma una cosa che ho letto un argomento una tematica che ho letto qualche due settimane fa su un giornale che riguarda appunto il cosiddetto di socialismo liberale ovvero quello che è una dialettica intrinseca che c'è sempre stata tra il socialismo di base e una democrazia liberale una dialettica infinita che poi potrebbe essere superata solamente laddove sia il liberalismo non è più liberalismo sia laddove il socialismo stesso come ha detto lei non è più socialismo quindi le chiedo in quest'ottica e nell'ottica di quel discorso si collegava al fatto del problema più profondo di questi ultimi 30-40 anni per il nostro paese ovvero la cancellazione della classe media le chiedo se questo tipo di forse secondo me di utopia perché ho 47 anni però sono 40 anni che sono sempre le stesse cose come ha già detto lei qualche volta sulla riforma della pubblica amministrazione su infrastrutture su digitalizzazione su riduzione delle tasse da parte di tutti centro-sinistra destra non ha mai visto quasi niente da parte di tutti e c'è stata solo la cancellazione in questi ultimi 30 anni purtroppo della classe media della classe borghese le chiedo se questo questo tipo di concetto di suo argomento potrebbe collegarsi a quello che è sempre stato definito come il raggiungimento della terza via cioè un superamento sia del concetto di socialismo di base sia del liberalismo in senso stretto ma collegare questo tema che lei ha citato che è eminentemente politico insomma al discorso che ho fatto è difficile comunque non impossibile perché sia socialismo che liberalismo sono movimenti politici che vogliono appunto realizzare una una politeia diciamo uno stato che ha un suo senso che ha un suo senso e quindi pretendono di avanzare una propria idea regolativa anche di giustizia che in entrambi i casi è fallita e questo è drammatico in entrambi i casi è fallita perché da parte socialista intendo socialismo nel modo più ampio e tutti i movimenti i grandi movimenti di massa che nascono con la rivoluzione industriale eccetera eccetera non sto a vedere adesso le differenze anche importantissime tra l'uno e l'altro evidentemente non abbiamo il tempo ma insomma ci intendiamo questo grande movimento diviso al suo interno in lotta al suo interno quello che si vuoi ma tutto sommato una idea comune esiste per realizzare uno diciamo nei termini che ho detto prima che sono impropri ma non importa uno stato giusto che realizzi una certa idea di uguaglianza che non è un uguaglianza materiale eccetera ma questo lo sappiamo tutti e così via è necessario che la politica svolga una funzione di primato e di egemonia sull'economico questo può avvenire in vari termini con interventi diretti indiretti con politiche di un tipo di un altro non importa ma è necessario put politics in command questo è il socialismo questa è la quintessenza del socialismo non si scappa da lì non si scappa ed è la ragione per cui anche i movimenti totalitari di destra si sono chiamati socialisti questo è dall'altra parte il liberalismo cosa dice no così tu non realizzi assolutamente lo stato giusto perché lo stato giusto lo realizzerai soltanto in una prospettiva tutto sommato di eliminazione del potere politico perché perché la nostra civiltà è arrivata ad un punto tale per cui nei meccanismi di scambio tra di noi esistono esiste immanente una razionalità tale una così potente razionalità da poter risolvere ogni nostro conflitto ogni nostra competizione in modo razionale la forma parlamentare combina le due cose no certo occorre anche il conflitto politico ma il conflitto politico può essere risolto in forma discutidora non è lo scambio economico tuttavia attraverso la discussione attraverso il confronto dialettico noi giungiamo ad una soluzione che è equivalente a quella che i liberali pensavano avvenisse nello scambio economico il parlamentarismo combina le due cose mantiene l'idea del conflitto politico che è centrale nel socialismo e la combina con l'idea della razionalità dello scambio economico ridotto a scambio a colloquio a discorso non funziona non funziona non funziona non funziona il primato del politico sull'economico di fronte di fronte alle potenze realmente espresse dalla dalla materialità dello sviluppo economico immanente al quale vi è lo stesso sviluppo scientifico tecnico scientifico e non funziona la riduzione del conflitto politico allo spazio parlamentare il parlamentarismo l'ideale del parlamentarismo appunto che è anche in Weber ed è oggetto del mio saggetto ultimo non funziona cosa funziona non lo so ma questo è allora lì in quell'articolo che dicevo se entrambi comprendessero la tradizione socialista la tradizione liberale comprendessero fino in fondo ciò che non ha funzionato nella loro storia nella loro tradizione forse da lì si potrebbe aprire una una prospettiva nuova ma si dovrebbe passare per questa formidabile radicale autocritica si dovrebbe passare perché se ancora si rimane abbarbicati lì abbarbicati a un conflitto tra metti la politica al comando ma quale politica rispetto alle potenze del mondo contemporaneo oppure riduci il conflitto a a discussione se continui a rimanere all'interno di questi paradigmi continui a rimanere all'interno della impotenza della impotenza quindi forse mettere mano in base a questa autocritica ad un disegno ad una prospettiva in cui tu davvero rivedi completamente quello che è il ruolo del Parlamento del governo i loro rapporti collochi questo problema all'interno di una dimensione generale di crisi dello Stato della forma Stato tradizionale territorialmente determinata eccetera eccetera e imposti un nuovo rapporto tra la politica tra la politica e l'economico e il tecnico economico forse e allora nel mio saggio ultimo appunto proprio ragionando su Weber cerco di mostrare come in Weber ci sia la possibilità di immaginare anche una prospettiva di questo genere Weber diceva ci avviamo alla chiusura totale dell'orizzonte un po' quello che dicevo alla fine del mio primo intervento la cosiddetta gabbia d'acciaio in cui appunto il potere di quel sistema di sociali di produzione formidabile che è il capitalismo il potere di questo sistema sociale di produzione non è il padrone il sistema sociale di produzione i suoi servomeccanismi interni non il padrone chiude tutto dice noi ci avviamo verso questa notte probabilmente magari attraverso tragedie conflitti come è accaduto ma ci avviamo in questo ma è proprio così e basta no perché perché bisogna sempre tener conto questa è l'idea poi marxiana vera bisogna sempre tener conto che la potenza del sistema capitalistico di produzione si regge su qualcosa di completamente immateriale che è la potenza del nostro cervello il sistema capitalistico di produzione non è un fatto economico è un fatto culturale straordinario è lo scatenamento del cervello sociale sul piano globale scoperta innovazione ricerca scienza è questo è cervello è questo che che determina lo sviluppo capitalistico la libertas filosofandi è l'anima dello sviluppo capitalistico ma si riduce lo sviluppo capitalistico la nostra intelligenza è è riducibile no non è riducibile è integrata in questo sempre di più perché sempre di più le scoperte eccetera eccetera e non sono le scoperte del genio sono le scoperte di grandi apparati mondiali integrati tra di loro quindi certo che è sempre più integrato ma è riducibile no non è riducibile non è riducibile perché è necessariamente libero e allora e allora la vera prospettiva al di là di socialismo liberalismo qual è un'alleanza un'alleanza strategica tra politica e scienza una politica che dice alla scienza tu sei la potenza vera anche del mondo economico industriale tu devi essere la determinante tu devi essere al servizio del bene di tutti Aristotele pros eteron i tuoi prodotti devono essere per il bene di tutti e tu devi lottare perché i tuoi prodotti siano per il bene di tutti e questo lo puoi fare perché? perché tu non nasci dentro il sistema capitalistico di produzione il mio sistema mentale non è il prodotto del sistema capitalistico di produzione ma l'ha prodotto allora una politica che abbia questa apertura nei confronti della scienza e attragga all'interno di questo discorso la potenza scientifica e questo è questo che devono fare i post socialisti e i post liberali questo devono fare cosa vuol dire? un nuovo modello di sviluppo contro il capitalismo niente affatto ma una contrattazione quotidiana con il sistema economico capitalistico perché i suoi prodotti siano per il bene di tutti è impossibile questo perché potrebbe dovrebbe essere impossibile perché dovrebbe essere impossibile non c'è nulla che logicamente contrasti a questa possibilità nulla nulla perché non sto parlando di qualcosa che era più contraddittorio l'idea dei socialisti e dei marxisti di una volta che fosse la classe operaia come tale a essere diciamo il soggetto fondamentale per scardinare il sistema capitalistico di produzione era più contraddittorio perché la classe operaia come tale è essenzialmente forza lavoro e quindi veramente il prodotto dello sviluppo capitalistico la classe operaia era veramente infatti Marx e poi tutti i marxisti più intelligenti hanno sempre detto si è forza lavoro ma poi diventa classe operaia ma doveva diventare classe operaia mentre il lavoro scientifico non deve diventare qualcosa che non è capitalismo perché non è capitalismo dall'origine a differenza della classe operaia che è forza lavoro questo questo diciamo così è la piccola utopia del mio ultimo saggetto altre domande volevo ritornare rapidissima al tema di questa serata e allora mi chiedevo se la legge si deve giustificare nomos con la ragione con l'ethos eccetera e questo vuol dire che il potere perché la legge è figlia del potere il potere si pone il problema del consenso e allora io mi chiedo se siamo arrivati al punto in cui la conclusione lei dice adesso siamo a un punto in cui la legge invece non si deve più giustificare allora io mi chiedo vogliamo dire che c'è un potere che non ha più bisogno del consenso che non si pone più il problema del consenso sì dico esattamente questo ma ma qui lei ha fatto bene a porre la domanda perché poteva sorgere una confusione del mio discorso il potere che non si pone più consenso è il potere che ha fagocitato in sé il potere politico per cui il potere politico poverino deve andare ancora a caccia di consenso ma è un potere politico che non conta nulla questo capisce il potere il potere effettivo non cerca più consenso si impone e delega la ricerca del consenso a un potere che non è più potere a un potere impotente questa è esattamente la contraddizione in cui ci troviamo che viviamo magari senza accorgersene chiedendo risposte di potere a chi è impotente e obbedendo nei fatti a un potere che opera senza più avere alcun bisogno di alcuna autoritas c'è un frammento ma non abbiamo più quel tempo c'è un frammento bellissimo di Benjamin su cui lavorare il capitalismo come religione che spiega benissimo questo il capitalismo è una religione ma una religione del tutto particolare una religione che non ha dogmi che non ha teologie che non si giustifica che non si esprime dicendo ecco questo è il mio dogma e poi magari lo discutiamo questa è la mia teologia che vuol dire esattamente il logos sul mia rivelazione che voglio eccetera eccetera questo è obbediamo ne siamo costantemente in debito operiamo nei fatti perché prosegua perché proceda e chiediamo invece di giustificarsi a chi a chi non ha più nessun potere e cosa fa questo poverino come fa ad avere auctoritas a dare auctoritas alla propria potestas se non c'è più potestas un auctoritas senza potestas queste sono le i drammatici questioni che però dobbiamo anche prendere un po' ridendo perché sennò la serata diventa troppo triste allora abbiamo concluso e ringraziamo Massimo Cacciari che oramai è nostro amico e quindi gli chiederemo probabilmente di venire l'anno prossimo grazie grazie